Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove in direzione Livorno ci sono code attratti tra Firenze, Scandicci e la Strassigna ed è avvenuto un incidente tra Scandicci e la Strassigna. Sempre verso Livorno, code in uscita alla Strassigna. Si informa che fino alle 6 di domani mattina l'entrata di Ginestra Fiorentina resterà chiusa al traffico in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, Firenze in via Senese per lavori all'altezza dei civici 93-95 restringimento di carreggiata con divieto di transito ai veicoli con larghezza superiore a 1,80 m. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie a tutti!